Poteva rappresentare la classica buccia di banana la trasferta infrasettimanale di Superlega a Taranto, ma la Sir Susa Vim Perugia si è fatta a trovare pronta una buona prova contro una squadra di caratura decisamente inferiore che soprattutto nel terzo set, incamerato dai pugliesi col parziale di 25-20, è riuscita a mettere in difficoltà una Perugia troppo fallosa. I ragazzi di Lorenzetti hanno offerto un'eccellente prova sotto rete con ben 15 muri in totale e conquistano il bottino pieno che gli consente di salire in vetta alla classifica quota 13 in coabitazione con Trento. Con Leon sempre ai box per motivi fisici c'è di nuovo spazio dall'inizio per Plotnischi che si rivela ancora fra i più positivi. Il martello ucraino eletto alla fine della gara MVP mette a referto 16 punti col 50% in attacco, stessa percentuale offensiva della squadra. Primo set sempre in controllo per Perugia, i Block Devils scappano addirittura sul 10-16, poi Taranto accorcia sul meno 2 sfruttando il muro ed un paio di errori gratuiti della Sir ma senza mai riuscire ad impensierire la squadra di Lorenzetti che chiude il parziale sul 20-25 grazie a Plotnischi, copione simile anche per la seconda frazione di gioco che termina con lo stesso punteggio dopo un inizio equilibrato, Perugia a lunga metà parziale grazie al contraattacco e al muro di Semenuk il resto lo fa un cambio palla senza sbavature e l'ace del neo entrato Eld che con l'aiuto del nastro manda la Sir avanti per 2-7 a 0 nel terzo parziale partono meglio i pugliesi, complice anche qualche errore di troppo da parte di Perugia i padroni di casa scappano, Lorenzetti si gioca la carta Herrera ma non basta e Taranto incamera il set che si conclude ancora una volta col punteggio di 25-20 ma stavolta a parti invertite Herrera viene confermato anche ad inizio di quarto set e il cubano è fra i protagonisti della reazione della Sir con il doppio ace che porta Perugia avanti sul 5-12, Taranto stavolta cede di netto la Sir amministra e l'errore di Gutierrez vale il definitivo 14-25 che chiude i giochi la Sir si gode la vittoria ma già pensa al big match di domenica quando al Palabarton arriverà Piacenza allenata dall'ex Andrea Anastasi